Ciao a tutti ragazzi, siamo gli Elosis e benvenuti in questo nostro nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo sempre su LOL e io sto usando Darius, che è un champ altamente OP. Cioè, RRRRPentakill. Invece, Alex usa il nab OP cieco, ovvero l'isin, che è morto. Come un nabone, proprio bravo. Sì, Ashi mi dice, Smite the Dragon, e se ne va 800 di vita, il mio Smite fa 6-7 anni di danno. Lei, Smite, Smite! Ah, ma poi alla fine ce l'hanno rubato? No, no, l'abbiamo fatta noi. Vabbè, allora, noi abbiamo la mid lane e la bot lane francese. Ho detto tutto. Poi abbiamo un top, che sarebbe stato dentro di me, che era Jarvan, AFK, quindi GG. E quindi veniva, venuto, rimasto qui, sempre in top a Momo. Che mi ha regalato due easy kill. Prendiamo un po' di vita e poi li salto addosso con la mia R. Dai Diana, però, quando la sposa si moscia. Lasciami i minion piccoli. Quindi, Darius, Darius, la sua passiva, provoca a ogni attacco o ogni skill, uno stack, ovvero sarebbero queste goccioline. Sono stack di emorragia, che ti fanno perdere vita, tipo una specie di veleno. E quando ne hai 5, perde tanta vita. E se gli uso la ulti, gli levo, tipo, quasi il doppio dei danni, mi sembra. Sì, un monte gli levo. Tantissimo. No, il minion! E la sua Q fa una giravolta, che fa tanti danni. Però più, se te lo colpisci, mentre il tuo avversario è, tipo, agli estremi di questa giravolta, fa più danni. Mentre se è, tipo, accanto a te, fa meno danni. La sua W fa danni puri, mi sembra. Oh, cazzo. Quindi stanno gancando. Giù è bastardo. Non ho nemmeno la ulti, quindi, basta, basta, sono salvo. Ah, beh, gank. GG. Mi rimango qua. No, non ho mana, beh, ecco. Vabbè, e, quindi, la sua W mi sembra faccia danni puri. No. Il suo prossimo attacco infligge, tipo, il 160% di danni in più. Sì, sento danni. E rallenta il... Oh, cazzo. E rallenta l'avversario. Poi, la E. Vabbè, sì, vabbè, la W a ogni attacco, ogni Q, diminuisce di un secondo. E la sua E è una specie di grab a corte distanze. E quindi, certo. Oh, attento, attento. Utile il giusto. Quindi, andiamo di... Localizer. No, bello fatto. Ok. Quindi. Mentre la sua R, meno vita e più danni fa. Cioè, più stack di emor... Visto che è blaterato. Visto che è blaterato solo. Eh. Vedi il tempo del draw. E sono solamente impassato questi ritardati. No, non lo so, non lo so. Vabbè, la sua R fa danni... Come posso dire, danni... Statici, cioè, come posso dire, fa un tot di danni anche senza emorragia. E più stack di emorragia. Emorragia? E poi, la puoi riutilizzare entro 12 secondi, mi sembri. Sì. Vieni a rotto! 12 secondi. Ok. E... Invece il cieco maledetto non sapete tutti quanti che fanno. Spiega, spiega cosa fa il cieco maledetto. Il Q ti... Oh, io ne lo so per filare! Il cieco maledetto, che fai il cieco maledetto? Spiega. Allora, ti teletrasporta, in pratica, con la Q. Poi, invece, fa volare via con la R. Rallenta con la non lo so. E non lo so usare, basta. Vuoi tirare giù questa torna? Bellissima spiegazione da parte del nostro Alex. Sì, vuoi tirare giù questa torna, oppure la vuoi perdere? Sì, scusate, lo sto farmando, non rompere. Vuoi dividi di ongele. Vabbè, vengono i top, dai. Io mi preoccupo, vado a bollire. E tra... Sai come questa è la mia lane, quindi è giusto, no? Sì, sì. Mamma mia! Tipo, noi non stiamo ancora chiamando l'SS di Amomu. Buono, buono. È in bot, a distruggere. Vabbè. Tanto, Amomu non fa danno. Si è fatto solo... Sì, quello lì, quindi non ha nemmeno P. Poi, c'ho pullo lì, sì, che è? Ah, e la W funziona anche sulle torrette. Oh, 1754... Quanto è? 1754, drago, dai, andiamo. Andiamo. Oh, qualche bot, guarda qua, Diana. Sì, vabbè, sono francesi in bot, è normale. Oddio! Io non ci arrivo, non vengono ancora le scarpe. Perché mi impappino quando parlo? Corri! Corri! No, grande, Diana, ha fatto una bella mossa. Corri! Sì, c'è la patigliana. Che still. Una mumu, una mumu. Voglio io, bastardo, ovvio, è mia. Sono tentato di flashare per rubarti la kill. No! No! Ma non è neanche per la Q! Ho flashato, ti ho rubato la kill. Sei un bastardo. Sei un bastardo. No, sono Darius. Basta, basta, basta. C'è il trago, basta, basta. Vieni al trago, che non mi vuole fare da solo. Mi uccide, mi è sfiduta la sua volta. Ah, ma prima è rimasta per il drago? Sì, che sono morto per il drago. GG. Guardi i miei danni, boh. Attacco gli night. Io mi uccide. Uff! Oh, sì, là! No, non è vero. Tengo mille mila gold. No, io ho 2.280, però. Io ho 2.280. Ho tipo tutta la vita e poi sono umana. E mi chiamano al telefono! Evviva! Mamma mia! Ma sempre, dai! Eh, ormai... Mi fanno anche paura, vi telecolpi. Allora, facciamoci questo. E andiamo... Quanto vogliono, sto blu? Blu? Te dallo a Diana. Che è quella più... Io lo chiego. Eh, non ci sei più serio, abbia mai trovato, per ora, dai. Beh, mi teleporto! Eh, me sta paura, eh! Eh, diciamoci, vediamo che c'hanno loro, c'hanno niente, sono proprio outpermati, outtuto. A 20 surrandano. Quando me a 20 surrandano, eh. Diciamoci la Sunfire, maledicita. Scemo. Ma parlano arabo? Chi? Loro! Sì, ma è che... Ah, il YouTube... Mamma mia. Ah, ma quella mia scritta, gg, che è snob? Perché l'ho sbagliato ad andare dalla parte? Devo andare qui. Questo è per me! E' una diana, te lo rubo. Ah, grande, grande Blitzcrank! Hai visto che ha fatto? Ah, io mi stavo ammazzando le vete. L'autotacco, forse. Mamma mia. Grande Blitzcrank. Mamma! Ha scritto, è in Joule! L'ho tata era francesi. E poi sono... Loro tre sono pre-made. Quindi, gg. Mia, 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 mia! No, bastard, mi hai fatto attivare la W Blitzcrank di merda. Mamma mia, mamma mia. Dat Darius, gg, wupi. E... Hanno sorrendato. Quindi. E' stato un video molto corto, perché all'inizio abbiamo avuto dei problemi per registrare. E quindi, c'è alla prossima. Ciao, ciao! Bella!